Ciao a tutti! Ciao! Innanzitutto vogliamo ringraziare tutti i nuovi arrivati e tutti quelli che ci sono, insomma dall'inizio. Siamo felicissimi perché pian piano stiamo crescendo. Ma io non voglio crescere. Ma bene, ti rimani piccolo. Tu sei sempre il mio cucciolone. Ehm, mettete un like, iscrivetevi e magari attivate anche la campanella così... ...e arriverà la notifica dei nuovi video. Lo dice sempre Carmen. Lo dice anche Carmen. E' vero! E commentate qui sotto che a noi fa sempre piacere leggere i vostri commenti e confrontarci con voi. Siamo davvero contenti di condividere con voi anche questi preparativi che ormai veramente manca poco perché il 31 di luglio non esiste forse. Sì, cioè il 31 di luglio dobbiamo consegnare le chiavi. Che dal primo agosto non abbiamo più la casa. E quindi queste sono le ultime settimane di preparativi per spostare tutto sul mucciato e provare le ultime cose. Come avevamo detto nel nostro primo video, io continuerò a lavorare. Quindi una delle prime necessità era avere internet. E quindi volevamo evitare di dover acquistare schede SIM in ogni stato, anche per una questione di comodità. Non vogliamo perdere tempo ad andare nei vari negozi per cercare una SIM da mettere in ruta. Abbiamo fatto delle ricerche, abbiamo guardato principalmente altri video su YouTube di altri camperisti, altri nomadi digitali. Alla fine scavando, 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 siamo arrivati a una soluzione che è questa. E' la premessa. Premessa, l'abbiamo acquistato, non è un regalo, non è pubblicità, non è niente. L'abbiamo acquistato con i nostri soldi e lo stiamo provando per vedere se effettivamente andrà bene durante il viaggio. E' appena arrivato, lo testeremo per un mesetto e poi vi daremo delle recensioni. Bando le cianci, Gabri, distrugge il pacco. Distrugge il pacco, vai taglia, aprilo. Vai, aprilo. Allora, l'azienda si chiama Oji Link. All'interno del pacco c'è arrivato l'alimentatore 220 che ovviamente a noi non ci serve la 12 volt. In fase di acquisto mi avevano consigliato di prendere anche il cavo 12 volt per attaccarlo alla celestina del camper ma secondo me non era necessario e quindi non l'ho preso. Poi abbiamo quattro antenne, due antenne per il Wi-Fi, due antenne LTE. E poi abbiamo il router che potevo scegliere tra due modelli diversi. Gabri taglia, amore, così lo apriamo. Qua bisogna usare solo la farbiccia e il cartello. Eccolo qui. Sapevo che dovevo. RUT950. Ho pulito oggi. Lo lo faccio io. Router teltonica, RUT950. Allora basta solo attaccarlo alla corrente all'interno del quale c'è una sim, Vodafone nel nostro caso, però si può scegliere in base alle necessità che uno ha. Wind però è solo in Italia, no? Wind sì, ha copertura solo in Italia. Invece la Vodafone ha copertura in quasi tutta Europa. Adesso vedrete tutti i paesi perché sono tanti da dire a voce. Sì. Potete scegliere tra due tipi di contratti diversi, uno da 400 giga con un costo di 24,99 e avete a disposizione 400 giga, 400 giga. Che è quello che abbiamo scelto noi. Abbiamo scelto noi, esatto. Altrimenti a 45-50 euro al mese potete avere 1200 giga. Sono i router d'interno, i router d'esterno, i router subacconi, i router spaziali. Potete usarlo in casa, in viaggio, si può usare ovunque, basta veramente attaccare la presa, ovunque uno si trovi, attacca la presa e ha subito internet. Montiamolo. 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 Le cornina sono messe? Ma perché non sono uguali? Perché vanno nei diversi posti. Sono delle antenne. Sì. Ok. E cosa dobbiamo fare con questa antenne? Adesso l'abbiamo montato e... Attacchiamolo. E se proviamo ad attaccare la corrente... È il momento cruciale. Fatto. E poi dopo qualche secondo, se tutto funziona bene, vediamo. Ecco, adesso è diventato tutti i led, sono diventati verdi e quindi dovrebbe essere partito. Io ho già le righe del Wi-Fi, facendomi le altre fighe. Oh, è spento. Ok, quindi internet ce l'abbiamo. Quindi anche da installare è semplicissimo perché basta montargli le antenne, attaccare il connettore e attaccare il trasformatore alla presa e poi fa tutto da solo e si attiva anche da solo. Quindi adesso lo proveremo. Vi faremo sapere. Vi faremo sapere. C'è scurato il mio. Vieni a salutare. Vieni a salutare. Dai, saluta bene. Adesso vi salutiamo e al prossimo video. Ciao, ciao.